Ultimo appuntamento con l'informazione sulla viabilità in Toscana, una cordiale buonasera da Andrea Biagioni di Firenze Smart. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze in Pruneta e in Cisareggiello in direzione Roma. Passiamo sulla 11 dove a causa del traffico intenso si registrano code tra Firenze Ovest e Prato Ovest in direzione Pisa. In A12 invece a causa di un veicolo in avaria code a tratti tra Pisa Centro e l'allacciamento con la 11 in direzione Genova. Da segnalare anche che è ancora chiuso lo svincolo di massa in entrata in direzione Livorno. Sulle raccordo Sena-Firenze si ricorda che a causa di interventi di potature in vigore uno scambio di carreggiata all'altezza dello svincolo di Colle Valdelsa Sud che è chiuso in entrata in direzione Firenze. E anche per oggi è tutto, muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!